come me il microfono e dopo mezzanotte perché c'era il mio compleanno 4 aprile sono 39 anni il rest in death era il mio gruppo era il mio gruppo metal quando suonavo cover di megadeth signori ebbene si hai visto hai visto si ho tagliato un qualcosina caro mio raga a me vi dico un chiede nuovo no 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 esegui dei sacrifici col dottore per forza ma si dai andiamo di dottore così così no è più bella più bella questa scusa va è meglio questa è meglio anzi allora signori settimana prossima no 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 che ritiro magari non so se ci riesco non credo no a mezzanotte e mezza così forse una vediamo un po' che altro che non voglio disturbare nessuno di andrea che stamattina purtroppo l'ho svegliata mi ricordavo che doveva che doveva andare a lavorare invece no perché aveva fatto rientro ieri quindi eh nuovo killer fa cagare eh metal nuovo killer fa cagare tira eh coltelli a nastro no 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 eh infatti sorveglianza e se vizia il perk che ti vizia eh anzi se non torna l'aumento di torna la metà davanti lo diminuisce il tuo campo fisico aumenta di 5 gradi così secolo coreano se si se si no no franci ma lei lei mi segue su instagram no mi sa di no eh neanche su no su tiktok mi segue mi pare eh eh hm 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 comunque ho notato che le notifiche di youtube quindi funzionano eh eh non male ho letto che non funziona quando metti da privato a pubblico il video quindi se bella lì bravo bravo allora signori facciamo un po' di culi eh beh è ovvio eh terapia d'urso quanti frame perderò su sta mappa quantifica quanti migliaio almeno migliaio di frame sembra aver visto qualcuno accasciato a fare la popò ma mi sbaglio mi sbaglio sempre si dai si 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 porco il papa la clodette la mia la mia eh l'affice eh guarda lascia perdere meglio che con le cose di non le racconto più perché zio cantante ops sta po' prosecco no non ce l'ho prosecco si si ma io non ce l'ho resistente alla luce no mica mica poco mica poco eh c'è sotto il naso scusa ai 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 Puttana C'ha il perk nuovo Della troia di merda Porco zio Non ci credo Mai nella vita Ha rotto il cazzo Mi ha sfondato i cogl... Porco Esposizione estetica Sempre lei Dio mio Dio mio Cioè Buongior Hai visto? Dai mica spettacolo I me Minchia quanti Quanto sono belli I me Porco zio Perché faccio il coglione Così Parlo Bonjour Zio Porco il papa No 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 Devo raccontare Allora È arrivata Una Una Cosa fa Una ragazza Ci avrà avuto Bob 18 anni No Poi del genere Minchia raga C'è un accello Ma no Ma no Sì 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 Bravo Porco Dio Che ti sfondo C'è un Minchia t'ammazzo Sì Sfondato i coglioni Eh Sti qua Porco Vabbè Dicevo Ah Mi servirrebbero Queste Vitti Qua Vabbè Spendi Che cazzo sei? Menchia raga cioè Spendi 40 centesimi Pago col banco Scusa? Ho detto no vabbè Per me li porti Zio prete Minchia ho Mi sfondato il cazzo Ho detto no guarda Per me li porti No 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 te li pago No vabbè lascia per Per me li porti Ah ma che ora chiudete No ci fa Passo fra un'ora Ho detto guarda Fra un'ora non ci siamo Lascia perdere Passi un'altra volta Minchia Sta qui Sta incazzata La uscita Perché voleva pagare col banco 40 centesimi Sto sotto del regalo Mi costa meno Minchia Eeeh E dove cazzo sei? Tu qui un bel premio di quelli più defrofumati Vabbè Vabbè poi me li porti No Dio cantante Cioè gli avrei regalati Addirittura Porco Gio Cianculo Vabbè Eeeh Niente Poi è entrata Quasi tutta indispettita Che meglio Ma tieni il resto No no tieni il resto Ma che tengo il resto Poi sei andata farfugliando qualcosa Cioè Vaffanculo Barbona Cioè vedi che ce l'avevi Bene Spero che crescia il tuo canele Sì infatti Zio prete Poi sta qui Che mi ha fatto girare i coglioni Sabato scorso Un'altra Ci fa Ah sa Mio marito Ha preso sta lampadina qua Ha detto Guarda che Questa lampadina è vostra Cazzo sei Oh c'è il basamento Ricambi bro Vai Ma sei già in piedi Porco Gio Amen Fanculo Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Male eh Pezzi di merda Vieni qua 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 Porco zio Porco zio sti stronzi Vieni qua Vieni qua Vieni qua Madonna 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 Vieni qua Vieni qua Dicevo Convinta Ingiallita Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Migita non lo so da cosa dei coltelli ma vaffanculo non ci sciacquo il cazzo dei suoi coltelli cristo eh giusto? eh giusto Tribute Band ecco abbastanza bene dai abbastanza bene qui facciamo i culi a nastro eh raga subito eh ah subito che cazzo è andata questa qua porco zio ma ma come cazzo fai? a pace di doom come cazzo fai? porco zio troia dio porca troia puttana eva pesante vai in kia in kia ah no che cazzo fai svolare la tua scelta eh figurati il cazzo è? non volevo tunnelare a un real tournament così così è random ma dove cazzo è? ma dove cazzo è? minchia c'è puttana eva non ci credo no no e sbaglia e sbaglia zio dove cazzo sei? ciao black buonasera come va? minchia c'è la raga c'è non ci sto credendo con la cittura dolce gabana che si vede la crappa del culo in pantaloni e cagarella vabbè dai fra fra un'oretta neanche sarò un anno più vecchio sta troia di merda no si vede che non ci sono copiati i giorni raga bella cioè dai su dai su è inutile bene non ci gioco più tutti i giorni le paghi le paghi le paghi per forza allora allora porco dai minchia raga cioè devo incazzare io devo incazzare ahi ops fai la tua scelta io l'ho fatta v pende così random porco mmm porco zio eh madonna madonna di dio male eh pezzo di merda madonna avrai i bratzers a posto vai no 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 porco il papa non ci credo dio mmm che palle ma quanto è sbilanciato sto gioco di merda ma quanto bravo bravo fai casino dai 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 manco la costa e basta che due coglioni che due coglioni faccio vedere facciamo così facciamo così beh cacciatrice lasciate one shot anzi no buba usiamo il buba porca troia il buba puttana eva e lì e che cazzo dai buba con rancore cioè dai e lì e scusa dai no minchia allora capisci ancora uo sconforto dai dai a posto dai a me non dispiace a me non dispiace per nulla dai con questo buff che gli permette di far durare di più con la con la motosega non è male dai secondo me poi secondo anche altri eh per me quindi devi dire fare la def scolma eh sì che c'è sto bimbo si grattano si grattano no no c'è doveva essere mandriano 2.0 ma anche no ma anche no in effetti eh sì infatti adesso usciva prima ladderface e poi mandriano un conto eh 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 niente ecco vuol dire scandola no niente non boh non lo so per me ha più senso che lo scatti o c'è la bella lo scatto in avanti dici c'è la invece che il mandriano dici morto la maratona guarda 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 qui si è casciata a fare la cacca sembrava averne visto uno qua ma invece no ma invece no c'è un paura la merda hmm zio prete vaffanculo vai stronza complimenti i complimenti eh veramente una figata vai vai guarda fiero sto qua e dietro pezzo pezzo di merda madonna no scusa no quanti freni ho droppato no di qua mica ce l'ha fatta tirarlo giù eh bastardo minchia oh madonna mia mettiamo di qua dai guarda quanti se vabbè dai ho già tirato giù ops 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 ma lì fa la forma eh lì fa la forma eh vabbè vabbè vai a posto oh qualcuno qua cazzo si sale qua di qua eh eh si ma guarda cosa c'è invasione fiscale questo ma madonna de dio porco dai puttana eva scusa ma ecco la lì guarda 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 cloderina 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 quanto bella cloderina mamma mia imbarazzante 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 ooooh ops qualcuno non ci ha lasciato le piume eh con un gem fatto eh solo così così eh oh oh cavallo oh oh cavallo oh oh complimenti eh aspetta merda cozio che lì vai 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 andiamo lì che pezzo di merda sì le verserie implicano infatti infatti la madonna e il gesù cristo no sa che ha detto che lì sì guarda alla fine se prima all'inizio lo usavo di più eh Bubba fa sempre bene ma proprio a sta grande non è per nulla macchinoso cioè che cazzo vuoi di più niente che cazzo sono passato non è che no eh porco zia vieni qua vieni qua merda 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 ops 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 eh ebbene impuppato la fava oh viti qua 3ct vabbè come ero così freddi oh e te lo butto giù te lo butto te lo butto giù cristo ah vaffanculo vaffanculo ebbene e che cazzo ciao drake grazie e ma ora è doppio no dai ah non esagerare porco zia drake secondo te quanti anni faccio welcome back eh cheat questa porco di quanto l'odio ah si vissi ovlad magari magari avessi vent'anni porco magari avessi vent'anni invece ho un piede c'è una c'è una sì vabbè dai cazzo dici questa complimenti magari magari avessi venticinque anni di più di più tanti di più porco il papa vieni qua De Dardino ah non ce l'ha De Dardino eh 45 no 39 e non sono solo gli anni eh sono anche i centimetri ovviamente sì oh ci ha lasciato anche lei poverina oh come come mi dispiace che cazzo sei finito figlio no non male questa partitina il bombouba si difende madonna cioè vediamo un altro generatore quello là magari forse si nasco no torniamo indietro secondo voi resisto fino a mezzanotte con Dead by Daylight non credo vedere se ho se ho coso mi schiama bene mi ricordo beh poi dopo vi facciamo la partita eh infatti stringi infatti tre gen vici infatti è un trigennato infatti si fanno guarda infatti si fanno questo è un trigennato sono dei geni si nascondono e merda oh porco zio in questo caso sussurri farebbe comodo Max perché non ho usato più sussurri lo usavi all'inizio se infatti ecco là mica l'ho visto come? come? ops beh direi che ah l'altra uscita ma adesso tipo che merda che merda minchia ha usato la chiave che merda l'ha lasciato lì come pappagalle 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 papparola calvizia feroce che merda ma che merda scusa? che ha 25.000 punti chiave universale genia ah genios mi era appellata di sì circa più o meno ma vediamo chi c'è online te vlad non ti chiedo neanche se vuoi giocare perché figurati eh qualcuno di voi vediamo un po' chi c'è online su dai lui non gli ho chiedo neanche perché figurati adesso un altro dice facciamo ancora una partitina che ha questo e poi cambiamo dai ecco ha iniziato a fare un'altra cosa a post a post cosa ci abbiamo ma non ci avevo installato scusa come installare esinte oltre nooo mi vedi di nuovo un'altra harddisk porco non ci credo per quell'oggi ci metteva una vita cristo dio si che me lo vede perché ho disinstallato disinstallato tutto mi ricordavo di avere disinstallato cosa comunque preferiti no non so perché ho disinstallato il residenzio oltre è che ci abbiamo minchia godda express genital jousting madonna su twitch credo sia bannabile una cosa un po' un po' un po' così c'è una vita che non ci gioco è una vita è una vita è una vita uh questo era carino eh minchia dovevo installare una bomba sì ma quindi minchia rango 15 vaffanculo cioè facciamo l'ultima da killer vai facciamo l'ultima ma cacciatrice vai cacciatrice accetterò se vaffanculo eh non c'ho di no niente niente vabbè ciccia sì infatti i russi che ne erano successi godici è probabile probabile una luce oh no aspetta eh che cazzo aspetta allora anch'io allora ci abbiamo tenato appurosa ma quasi quasi la le verei metterei un bel vocazione infermiera spontanato brolin eh no aspetta però ok ok anzi vediamo un po' se c'è nulla no vabbè non cosa vai se c'è tanato ci sta sempre e comunque tanato ma perché qua si è spento così a random si è spento a random così a random eh infatti sabbatevi su donate no vabbè dai lo facciamo così eh no si vede che sono un po' stanchino eh infatti ci abbiamo di di carino mi piace unreal gold scusate ma salame morta in live quindi qua non guarda vedrai che qua si incazzano vedrai che si incazzano dai ah quello lì già parte già male ah subito così lo dici così ah li faccio bestemmiare porco zio porco di oddio zio 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 mincchia mincchia cugio cugio vabbè 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 dopo questa proprio zio 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 porco dio Ops Ebeni E vaffanculo Che palle sti qua Minchia Che due coglioni Mamma mia Pesante Andiamo di qua Vai Ops Ops Ebeni Assù Ma deve essere mai vista Ah minchia C'è qualcosa Eh Lampolei Doi Sentila Ula Sentila Sentila E la porterai Ciao Dark Penso di Di si Devo ancora Prenderlo Ma Insomma Oh Welcome back Porco O tutti Stanno facendo Dio Ti prendesse Il padre eterno Ops 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 Spaccato i coglioni Sti qua Oh Così Mamma mia Spaccato Veramente I coglioni Tirolo giù Mi raccomando E' bravo E' bravo Nasconditi qua Sei buona Ciao Edo Buonasera Che due coglioni Sto qua Eh Ci avrà avuto Da fare Che cazzo è andato Ecco bravo Ha tirato giù Adesso Allora Ti sta rompendo Le palle Vabbè Eh Eh no Lasciamolo a perdere Vai Sai ti arriva La candela Per cosa Per la moto Porco Complimenti Sì Ave 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 Fratelli Minchia A te Ti svito il cranio Ti caghi in gola Porco Eh Minchia Mi è sfondato Porco Zia Sta qui Sbaglierai No Non sbaglio Quanto sfondano le palle Sti qua Come va Godnap Come va Parliamo di Gesù Preghiamo Preghiamo Ma niente Grazie Grazie Godnap No Non avevo Il motorino No Dai Ti prego Cazzo fa Salve Salve Non trovi Il controllo La piazza Cosa voglio giocare Questa Oh salve Oh Oh Che due coglioni Però Andiamo di là Vai Unrival 2 Carino Minchia Sei un qualcosa Di inguardabile Te Pesanti Pesanti Sti due Pesanti Pesanti E tre Oh 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 Cavallo 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 Tiro Pallet Cristo Che molello Ma non ce l'avevo Ciao C'ho la cosa Che due palle Che palle Sti qua Guardali Guardali Trigennato Eh sì Eh Che Che sì Oh Por culpapa Eh Mmm Non ci credo. Pesanti questi qua. Ovviamente pesanti. Eh, easy. Tira, droppone. Dai! Eh, non c'è. Pesante, eh. Partita piuttosto pesante, raga. Minchia. Sarà di qua? Eh, no. Non è qua. Le 9 gay. Sì, non è il rival, le 9 gay. Porco zio sto qua. Non lo sgancia. Italiana. Italiana. Ita. Tosa 97. E' il francese. Il francese. No, dai. Non ci credo. Dio. Dio. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Dio. Vabbè. Erano tosti, eh. Erano tosti, comunque. Erano tosti. Perca troia. Mamma mia. Cioè. 19.000. Reach out on the touch fate. Ricambi, bro. Sì, sì, sì. Allora, dato che al mio compleanno facciamo una regalina a qualcuno. No, che dite? Ti seguo se mi segui? Mi fa? Scusa. Così. Oh. Eh. Sì, infatti. Eh. Eh, oh. Eh. Che si fa adesso? Ma figurati. Che si fa? Che si fa? Dove si va? Potremmo... Potremmo, 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 potremmo. Che cazzo? Giochiamo, raga. Eh? Ma dai! Ma che cazzo vi frega? Dai! Eh, no, però ho disinstallato. Crash. Beh, ricordi. Senza in trilogia. 10 mesi, è figa. 10 mesi, è vero? Eh, no, non so. Eh, no, non so. Prima un po' battle, minchia. Eh, sì, eh. Ma figurati, scherzi. Dai. 3 minuti. No, no, no. Ecco, non si accende la piazza. Eh, buonanotte. Cioè, allora, dillo. Allora, dillo. Allora, sentitela un po'. Mi voglio dire, auguri stronzo. Andrai, eh. Ma funziona nel coso, in Cristo? Non mi pare. Non. Come? Che? Cos'è? Blizzard Update Agent. Dai, facciamo una partitina più, ce ne andiamo a nanna, raga. Ah, fantastico, la partitina che non funzionava, a posto. Ah, credo che... Complimenti. Scandola. Scandola. Eh... Eh, infatti, eh, infatti, eh. Dai. Dato che siamo buoni. Dato che siamo buoni. Eh. Dato che voglio spogliare i slot, porca droga. Voglio spogliare i slot. Eh. Eh, raga, voglio sbloccare i slot, non ormai sbloccati. Qua non c'è qualcosa, l'alert. Un minuto. No, cosa sta... No, aggiornamento, porco. 52 giga. Ma non c'è l'alert qua? Perché non c'è la... Ah. Scusa. Ecco. Ma tranquillo, tranquillo. Un minuto. A mezzanotte, sai... Ma se... No, raga, non ce la faccio a... Aspettare... No, no, no. Grazie, ragazzi, grazie. Grazie. Minchia, 39, raga. Puttana, Eva. 39. 39. Se ci piove... 39. Se ci piove... Mi sono accorto... Ma figurati, ma scherzi. Grazie, grazie. Parlo piano perché i vicini... Chi è che mi ha scritto su... Ah, Scuola Park. Sempre su... La Scuola Park è uno che mi segue su Instagram. Ben capito chi è, però. Ma io non ho stranato, bro lalla. Ma ti sei installato tutto. Ma dai! Ma ti sei installato tutto. Perché? Scusa, eh. È perché te l'ho regalata. Ti ho regalata la sub. Cos'è che è successo? Cos'è che è successo? Avevi installato tutto. Eeeh... C'era della roba in install... No, ma io oggi prima vi ho dovuto rininstallare il DVD. Ah, ecco. Come mai? Non c'è un'ottima di DVD. Ah. Se l'ha disinstallato. Ah, ecco perché. Ma da solo, eh. Ah. Ecco perché. Potete... No, beh, ma perché mai è disinstallato anche altra roba. Per esempio, oltre... No, non ho capito. È disinstallato tutto. Tutto. Sì, non chiedo di... Ma ho disinstallato tutto. Ah, fantastico. E' una mattina. Ho giocato a DVD. Se mi fa problemi, ho chiuso il PC. Oggi pomeriggio non avevo DVD. Non avevo DVD. A posto. Minchia. E mi diceva anche che non c'era più spazio. E che... Per informare. Vabbè. Raga, ma... Un... Un 64? Se me la butto lì? Cioè, beh, è ovvio, eh. 93 MB. Cioè, Doom 64 e... Ma figura, eh, ma... Ci mancherebbe. Doom 64. Dai, Doom 64. Ora, cambiamo. Dai, dai. Vediamo un po' come è la situazione. Dai, dai. Che altro? Devo vedere. Ok. Vediamo un po'. Vulcan. Vediamo se prende la... Prende, sì. Si frizza, ma la prende. Doom 64, va, vai. Sì. Vai, però. Uh. Quindi? Ce lo possiamo fare? Ce lo facciamo? Fotosensivity warning. Da giocarlo con... Ma no, ma che col pad? No, no. Avvia. Eh, è sbagliato. D'accordo? Alla bersagliera! Ah, ecco. Alla bersagliera! Ok. Comandi. Assegnazione di comando. No, no, no. Scusa. Ah, no. Mouse. Sensibilità generalale. Accelerazione. Controller. No, no, no. Schermo. Sbarra di stato. FPS massimo. 59. Alla bersagliera. Lingua. E te? Vulcan. Ok. C'è una interpolazione. Ma... 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 Sì, ok. Va bene. Va bene. Andiamo. Nuova partita. Vai. Vero. Vai. No, 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 no. Aspetta. Ma così iniziavo a tipo Doom 2, scusa? No? Io vi dico che... Doom 64 ci ho sempre voluto giocare, ma... Ovviamente uscì su... Nintendo... Nintendo 64? Mi tenuto... Porco! Piazza di merda. Te c'hai giocato? Ah, no. Te non hai mai giocato. Ah, ok. Uh. Ma infatti è uscito su Nintendo 64... Un... Oddio. Ne fa... Piazza di merda. Scusa? Aspetta. Mi raccolto un caricatore. Eh, il caccolo demone... Non si posso dire, no? Uh, buono. Buono. Uh. Ah, ah. Ho trovato un'area sigleta. Alla faccia. Alla faccia. Alla faccia... Scusa? Eh, vabbè. No, eh. Eh, basta. Lì? C'è un interruttore, lì. È Doom 64, Franci. Allora, Doom... Il porco... Doom 64 uscì... Verso la metà degli anni 90... No! Uscì su Nintendo 64. Ovviamente. Uh. Aspetta. Porco zio. Scusa? La do... No! Cosa? No, vabbè. No, vabbè. Oh, sì. Oh, sì. È un... Non sparare tutto in prima persona. Mezzo di merda. Mezzo di merda. Lo sai? Uh. È uno dei primi... Ah, il primo è... Primo, primo no. Però, insomma... Ok, andiamo da... Alla porta blu... Che era... Tipo di... Che cazzo era la cosa blu? Eh, albarolo infernale, madonna. Aspetta. Che cazzo? Minchia, mi son perso, raga. Qua? Vai. Sotto? Sì, di qua. Mezzo di merda. Allora... Ah, quello lì era... Wolfenstein. Wolfenstein è quello che venne prima. Molto bello, quello. Molto, molto bello. Qua, figura di si può saltare, sto gioco qua. Porco zio. Porco. Uncchia. Sì, ma ma si è chiusa tutto. Dai, Edo, buona no. No, non posso andare in alto. Che cazzo? Cos'è sta roba? Che schifo. Si muove. Buona no. Buonanotte, buonanotte. Grazie alla compagnia. Mi è finito il livello? No. Dov'è che è aperto? Scusa. Ho sentito... Ma... Ah, ok. Si è riaperto qui dietro. Scusa. Minchia. Pezzo di merda. Ah, sì, ma basta che non mi schiacci. Madonna, raga. Cioè, madonna. Corazza. Tantantantantantano qui dietro. Rebeni. Porco zio Pazzo di merda Uscita Che cazzo fa? Ciao Mauri, grazie Ah, devo schiacciare qua Come state? Come state? Guarda che Tanta roba all'epoca, eh Tanta roba Accesso a terraformer La password, scusa Password Come state? Porco zio Pazzo di merda Minchia Mi ha fatto il culo, eh Sto qua Pazzo di merda Eh no, qua ci vuole la chiave gialla Vabbè Atamola Eh, Franci Eh, sì, eh Lo stesso sviluppatore Ah, io dovevo entrare qui dentro? Aspetta, eh Fammi un po' vedere Qua, figurati, non si può andare Eh, va bene Ah, beh, beh, beh Uh Pazzo di merda Uh, quello che ti dà l'energia su... Questo cos'è? Visore No Fico Che spettacolo, raga Eh Qua è chiuso Serve la chiave Questo? Eh sì, ma il cazzo ci fa ciò col bear sex Non c'ho di... di... di gente da uccidere, eh Il cazzo Eh, invece ce l'ho Minchia, guarda, guarda La chiave è blu Chiave è blu Tarararara Tararara Minchia Pezzo di merda Grazie, Wolf Un bacione Grazie di essere passato Dai Su di merda Ah Dio mia Che soddisfazione, oh Che soddisfazione Però Non male No Di qua No Di qua Ah Qua non ci sono state Non ci sono state Non lo so No, no No, quelli erano i cosi Porci Era un valore infernale Sono un pochino diversi, eh No Che merda E come cazzo faccio io? Minchia È buona Porco Grazie 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 Ah Porco Perché? Scusa Non ho capito Non ho capito Aspetta No No Ok Devo toccare solo Aquile Perché non ci arrivo Perché non ci arrivo? E adesso? E adesso spogliati Sì ma ci metto No Aspetta Facciamo così Il tasto della corsa Quale cazzo è? Allora Comande Ah La barra spaziatrice Ok Ecco Chi cazzo è? Minchia Madonna Allora Adesso Per poter andare Cosa? No Un caricatore Lì non ci posso andare Dovevo tornare Lì Aspetta No Qua c'è il coso rosso No Tante angure Grazie Curo Mi risposto Tutte le grammi Qua Eccolo Che mira Vinto Porco Così Pezzo di merda Quello Madonna Grazie Andrea Grazie Grazie Mia moglie Grazie È venuta un po' di gente A salutare Super carica Tra poco Ce ne andiamo a nanna Raga Che Insomma Mi serve una chiave rossa Ho capito Che mi serve una chiave rossa Però Un momento Aspetta Guarda Siamo Un bellino 20 Eh sì Come minimo No E c'è il coso Mmm Siamo la chiave rossa Dove cazzo la prendo La chiave rossa raga Non giro giù di qua Siamo qua Mi da un cazzo Mmm No 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 Non ci sta capendo un cazzo Per gamba Come minimo Come minimo Per gamba No 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 Ritorniamo un attimo Di qua Aspetta Forse qua sotto Eh vedi Vedi Scusa Scusa Porco No Ma vaffanculo Ma che cazzo Ma che cazzo Ma niente Niente No No Niente Sono Sono bloccato A posto A posto Madonna Cioè Eh capito che mi serve La chiave rossa Dove cazzo la prendo La chiave rossa In culo Buonasera Simone Buonasera Niente Non Non è dato No Non si sa da dove Ah Aspetta Proviamo a tornare di qua Forse di qua Ma però qua non mi da altre chiavi Eh Un pochino Eh Un pochino E' un pochino Di spero Eh Ho compiuto 39 anni Adesso Cioè compio 39 anni Grazie dei bitini C'era un messaggio Amica No Parti Non Boh Ciao Buonasera Come va Questa Semana prossima Ci organizziamo Per Per cosa Sa cosa Deve portare Per fare un po' Di Cosa Cosa Dica Dica Simone Niente Qua chiave gialla Non c'è un cazzo Grazie Raga Mi sto perdendo Eh Ve lo dico Mi sto perdendo Ah Forse Ma ci sono già stato Minchia raga C'è Fortnite Grazie 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 La sub Sì Infatti Non gioca Non è Eh Lo so Lo so Infatti Di solito Porto Dead by Daylight Ogni tanto Warzone Ci sta Raga Cioè Eh Non so Dove andare Grazie Bello Grazie Che radio Voi Che ci becchiamo Non è di Tanto Ti dico Io sono in festa Quindi Se vuoi che Ci Ci si becca un po' prima Ci si becca un po' prima Eh Cioè Terminator E' Già è così Eh Buona Pasqua Quanto tempo Terminator Come stai? Come stai? Giusto pure Pasqua Dai Il 21 Perfetto Perfetto Minchia raga Eh Dai Dai Tutto bene A parte che mi sto perdendo Non so più dove cazzo andare Cristo Non so più dove andare Non ci sono altri posti Non ci sono altri posti Vabbè Intanto salviamo Vai Sì Sì ma Mai giocato A DOOM 64 Mai Mai Usci Nel lontano Degli Mettagli anni 90 Su Nintendo 64 Anche Giusto Aspetta Ce l'abbiamo Coson Nel Pet Marble on stream Staviamolo Minchia 7 giga Ma perché? Ma perché Non c'è più un cazzo Eh sì Aggiornamento Ah E' come se avesse Aspetta Giochi ma Marble on stream 97 Infatti infatti Allora vedi che c'è Ci sono gli altri giochi Mortacci loro Raga riusciamo lì Ma perché? Eh 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 Installato Sì ma Aspetta Ora me li dà Ora me li dà Che infame Ora me li dà Ora me li dà Tutti Ma vaffanculo Aggiungi i preferiti Vai Con la chiatti Cioè Cioè Chi è La chiatti Cioè Chi è la chiatti Si vede che cazzo Che cazzo gli ha preso Non so Facciamo le ultime partite Devo portare giù anche il cane Se no poi Proviamo Marble on stream Eh Marble on stream 123 mega Dai Gas Che è gas Dai Quello delle biglie Potete giocare anche voi Eh Facciamo anche il commento Tonna Che è ton Gas Ah Gas Lo chiamavi gas Vabbè Perché Toglieva I gas Sta dormendo Vabbè Beato lui Comunque Allora Lunedì sera Ci becchiamo Poi Col mio Compagno Di sventure E compagno Di Di sventure Musicali Anzi Alle 21 Con It takes Two 12 secondi Ok Dai Perché si Perché sono operato Il twitch Ti non mi hai mai visto L'ho visto così No Vai Marbles on stream Vai Sì Ci sta Eh Eh Beh Chi è la Chiat Grazie Termi Grazie Bello Ma Ti ci C'è che ancora Di Dbd Eh È che si guarda sempre Cosa Chi è Chat Ah con la Chat Ah Con la Chiat Ho detto B Ah ok Con una T Con la Chat Eh Minchia Grazie Quasi mai Eh Oh ma Io l'ho avviato Ah ok Aggiornamenti Avvia gioco Vai 10 centesimi No Sì 10 centesimi Ah si è avviato Aspetta che devo Cambiamo schermata E Jack Sende Non Scrive 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 Eh No Devo Rifare Porca Puttana Ma Tranquillo Tranquillo No Perché Come Devo Ma Ne ha Già Accusato To access the home screen Please sign in twitch Scusa Minchia Aspetta Vediamo un po' E senza aggiungere Eh Se c'è la paypal Si Allora Qua mi dice Devo andare su twitch Che cazzo Che cazzo E come faccio a collegarmi con marbles on stream Puttana eva Aspetta fammi cercare Marbles Aspetta fammi cercare marbles Dai ci organizziamo poi Stream Può fare una partita o due Come faccio a Come faccio a Che palle Che palle Che palle Now to connect Eh infatti E infatti Act And on stream To twitch Ok Eh ho capito ma no Che cazzo Allora aspetta Ah set Ma vaffanculo Ok Bastava questo Dai Token Scusate Ragazzi ma Sì 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 Oh minchia Porco zia Ci abbiamo fatta Raga Scusate ma Oh Eh attenzione Attenzione Si inizia eh Arcade Vai Ma Così a random E ma Marbles On stream Gioco Delle biglie Ma Cazzo Si Vai Allora Dovete Cliccare Digitare Play Per 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 joinare Quindi Punto esclamativo Play per joinare Mi raccomando Eh Eh no Eh no Eh no Adon Si vincono entusiasmanti premi No Non è vero Però Godnap Buono Join anch'io Dai Join anch'io Dovete To start Metal fire No Ci siete Vado Startiamo Vai 10 9 Ma si che è andato 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 E' incredibile Chi è il primo I nomi I nomi I nomi Come cazzo Si vedono i nomi Cazzo Come cazzo è No Com'è il Coso Pier Riccarda Ecco Scusate Cursor Tab Cinecam Vai Names Left Alt Be cazzo si Eccoli Incredibile Max Colaiera In testa Signori Godnap A seguire Metalfire Terzo Area Deaxena Quarta E Simone Limone 33 Quinto Godnap La spuntata E' primo No Cosa sta succedendo Incredibile Ah Nel tunnel Signori Signori Uuuuuh Ci sto capendo un cazzo Che cazzo Incredibile Colaiera L'emoluzione Ma che si Swap Camera No Godnap E' primo E' primo Metalfire Metalfire Vince No Vince Sto usando i trucchi 10 Scusa Scusa Ma io Snap To Cinecam Set FC Metalfire Primo Simon E vince E vince Metalfire Dove ancora arrivare Simone Limone Io ho i trucchi Eccolo Metalfire Maestro Maestro Ma un po' di musica Non c'è Il siub C Final Results Scusa Ma Audio Music Enabled Vai A posto Random Track Vai Godi come un riccio Come minimo Vai Digitate play Per gioinare Joino anch'io Bella lì Curson H1D Player card Sprint Left shift Godnap Godnap Dai dai Attenzione Eh Attenzione Andiamo Godnap Si è affeso Perché usa I trucchi E niente Aspettiamo Godnap Bella lì Quattro 3 2 1 0 Vai I nomi Signora I limoni Che cazzo HOD Incredibile Godnap Primo Guardalo Simone Limone Limone 33 Sì Ma l'audio Non arriva Stai cercando Simone Limone Primo Incredibile Incredibile Si fermano Tutti Di quando Incredibile Le monta Di Godnap Si è fermato Chi è questo Non mi dà Il cazzo Perché non mi dà i nomi Sto stronzo Oh Metal Fire Primo Come prima Primo Come prima C'è l'autocamera Un po' di musica No Tutto Magari Free Copyright No Minchia Incredibile Minchia Io Alla giù In fondo C'è Bu Facciamo ancora Due Qui C'è Andiamo Nanana Radiaxena Prima Incredibile Simone Limone Ha ripreso Incredibile Signori Godnap Si è fermato Signori Godnap No Non si è fermato La biglia Non va un cazzo Lo so E perché va per inerzia Va Sto recuperando Signori 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 Incredibile Incredibile Mai visto una cosa del genere Metal Fire No Scusa Perché Cioè Metal Fire Va talmente Veloce Che va indietro È talmente Veloce Che va indietro C'è la biglia Buggata Che sfigata Sfigata Perché io ho vinto Io ho vinto ormai Io ho vinto ormai Io ciao proprio Metal Fire Sto viaggiando indietro nel tempo Sei talmente veloce che viaggia indietro nel tempo Fai te Fai te Sempre laggiù ehm Sempre laggiù eh Sta tornando Sta tornando Simone limone Supera Quasi Attenzione Attenzione Simone limone 33 Vai 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 Quanto cazzo è lungo sto cosa Tu non hai capito Il gioco non riesce a farlo vedere Quanto vado Eh beh è ovvio Vero È andato indietro Scusa eh Scusa eh Cazzo è Ma guarda Guardala 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 Sta riprendendo Intenzione Madonna Sì ma Sto mouse di merda Uh C'è Simone limone No Simone limone Si è fermato qua Pensavo avesse ripreso Invece Vince La radia Xena Credibile Xena Porca troia Si è fermata lì Godnap ha vinto Ha vinto Godnap Boom Io niente eh Sì ma io voglio l'audio Cristo Perché non c'è audio In sto gioco Niente Andrea Rimane qua Tranquilla Con calma Guarda Guardala Guardala Ah c'è il tempo massimo Ancora un Neanche un minuto Scusa No vabbè Questa madre La devi spiegare Ci sono tornato indietro Nel tempo Anch'io Ora che arrivo Accendi il fuoco E fai la grigliata Ecco A posto Dai Dai Ma dove sono Eh buona Ma non c'è l'audio Dacci sua Scusate Settings Audio È tutto a 100 Proviamo un'altra C'è l'ultima Prendiamo a nanna Che dite eh Ok Ok Giorno anch'io Hai visto Non come da Beidei Lai te Bella lì Namo Ma Terminator Niente Non No 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 Vabbè Riperoni Terminator 10 9 8 7 7 I nomi Signore Aspetta 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 Poi cazzo E no Player card Cazzo E HOD No Ma perché Left Alt Eccolo Ma Si ma Io devo Incredibile Radio Xena Prima I nani Incredibile Bello sto tracciato Tipo da formula 1 Non capisco Quell'1 Lì cosa Ah Fa fare un tot di giri Tre giri sono Signore Tre giri Tre giri Simone Limone Secondo Attenzione Attenzione Eh Attenzione Eh Radio Xena Incredibile Lei è sempre prima Tranquilla Distacco Di Di un anno Tra me e lei Poi dopo Facciamo Un osticino Dai dai Ancora Un giro Eh si è Minchia terzo Secondo Simone Pazzito Guarda Primo io Secondo Simone Limone Incredibile Incredibile Rimonta Di Simone Incredibile E niente Guarda Guarda Lui Andrea Simone Signore Signore Incredibile Niente Simone Limone Dove Giocarsi Con C'è poco Da fare C'è poco Da fare Primo Vinto Secondo Ralex Sena Terzo Metal Fire God Nabi Simone Limone Signori Signori Bada partita Bada partita Direi che Per Stasera Ci salutiamo E vediamo Un po' Chi c'è Da Stare Buota Pasqua Buota Pasqua Tampoco Ci sono Io moro Ehm No Andiamo Qualche canale Risorto Gesù Ehm Che cazzo Sto Qualcuno Su Dbd Naris Vai Naris Dai Dai In live Andiamo Matteo Dai Dbd Matteo Dai Dbd 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 Dbd